Brian Cook e Taylor Averill, due americani a Padova. Il nuovo schiacciatore e il centrale della Tonazzo Padova ha la loro prima esperienza in Italia, parlano così della nuova avventura e del campionato che li attende. Sono molto felice di essere qui. Padova è un ottimo spazio, un ottimo team. Sono molto felice perché è una buona liga e è una nuova avventura. Ho venuto con nessuna esperienza, solo di lavorare hard. È stato bello arrivare qui, le persone sono amici, il team è bello. E sono molto felice di iniziare a lavorare. Brian Cook, reduce dall'esperienza in Grecia, è conscio che il livello di gioco in Superlega sarà superiore. Sì, è sicuramente una liga più alta. La liga greca era un buon primo anno per me, ma sono pronti per andare in un'esperienza più difficile. Ma qual è il loro giocatore preferito? I miei giocatori favoritosi sono sul mio team. O Brian Cook. Sì, Taylor Ebron. I due hanno giocato insieme in passato, sia con squadre di club che con la nazionale giovanile. L'esperienza è sempre bella, giocare con le squadre internazionali è bella. E' un buon teammate, un buon giocatore, funziona molto, quindi sono felice di giocare con lui. È un buon amico anche. Curiosità, se Brian Cook ancora non si sbilancia sulla sua situazione sentimentale, Taylor Ebron risponde così alla domanda. Sì, infatti, per le persone. Ma sì, sì, è venuto. È venuto in breve. Sì, è venuto in breve.